E eccoci qua nel quarto episodio del Minecraft Hardcore Come vedete sto registrando questo qua subito di seguito al precedente E finalmente il nostro amico villico è riuscito a entrare nella nostra casa Allora direi facciamogli un dispetto e spingiamolo nel buco Ciao Benissimo ho craftato la spada e i piccoli di ferro e ho ancora un lingotto Però ho finito il legno come potete vedere cioè ho soltanto un blocco Allora direi di andare a piantare l'alberello e tagliarlo E in più andiamo qui e abbattiamo un paio di alberelli Sicuramente quali altri ci basteranno per tre No una mano è meglio tenerlo libero mettiamo questo Benissimo guardiamo che bella luminosità è questo E benissimo E adesso cacciamo alberi Sono un cacciatore di alberi Stiamo un cacciatore di tagli però mi pagano in cellulosa Ah muori foglia Anche questo qua Anche saprei che alcuni hanno una luminosità così bella E altri fanno caccare Quattro e cinque Sono tutti alberi piuttosto bassi Prendiamo anche un po' di betulla Ho visto che c'è un alberello della betulla Giusto? Si Raccogliamo gli alberelli Non c'è neanche uno Ah eccolo lì Ti prendo patatate albero Ecco ne ho altro Sapevo che funzionava Prendo gli alberelli perché quando andremo a trasferirci Dove? Lì dentro Io sono lì Non ho nessuna voglia di andare in giro A fare viaggi e nomi per il legno Ma Preferisco averlo già Vediamo adesso Prendiamo questi qua che ci sono già E credo che possano bastare Ciao alberi Sono quanto? Tre minuti giusto? Ok Sono dalle E' 36 Benissimo Scusate ma mi dimentico sempre di guardare che radio è quando Inizio a registrare Allora che fare? Vediamo Quelli di betulla li teniamo così Mi piace Ma preferirei Non Preferirei tenirli per bruciarli Finché non troviamo del carbone E questi qua li trasferiamo tutti in assi E adesso andiamo di nuovo a scavare Però devo fare un bel piccone di pietra Ne facciamo anche due Così non abbiamo più problemi dopo Ho l'inventario pieno Ho l'inventario pieno Ma anche no E' una cosa davvero strana E' una cosa davvero strana Ho sempre l'inventario vuoto Che mi si è su vuoto sempre Direi di continuare per di qua Siamo alla data 54 Direi di arrivare a meno a 30 Benissimo Scusate se ho la voce un po' bassa In questi ultimi video Ma dopo aver giocato le cuffie Ho un po' male all'orecchio E mi da un po' fastidio tenerle Ma credo che mi passerà in un paio di giorni Allora da un video che ho visto Hanno detto che Dietro la terra si nasconde spesso delle cose belle Ma se ne vedo non ci credo tantissimo Allora vediamo Ho quasi finito la paletta Ricordo non ho too many items E non ho neanche i trucchi Vedete Quindi non potrei comunque darmi in nessun modo Bene Abbiamo anche finito la paletta Troppo nei momenti in cui piovo la chat Non c'ho nessuna voglia di fare ancora La crafting table Però la faccio Perché non mi voglio bene Allora faccio le cose che non ho voglia di fare Uff Sprechiamo il legno Perché voi non lo spiegate Spreco il legno con una velocità Che è fuori dal comune Benissimo Che brutto quando si trova la terra nelle miniere Vabbè qua non ho fatto nulla Adesso vedete appena Se scavassi quei cose lì Troverai un sacco di diamanti Però Perché questo qua è più luminoso Perché lo trocce sul suo lato Mmm carbone Non l'avevo visto Che bello Il carbone ne trovo fin troppo qua Adesso è già tanto se abbiamo trovato uno Andiamo 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 a lavorare Non l'avevo No Andiamo Non ci posso credere Vediamo Cosa buttare? Buttiamo Lo spider occhio Non ci posso Credo Dai Potrei fare una cesta Per mettere quello che trovo Però non ce ne sono vedi Sono 8 minuti Chissà perchè mi preoccupo così tanto del tempo Vediamo, 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 vediamo Vediamo, può bastare però Sono le 16 Fps Mi si trova da un pochino di più Però non so come lo vedrete voi ma In me 13 o 20 Non mi cambia troppo Cioè mi sembra più tanto uguale Poi vedremo come lo vedete voi Ciao Ciao Allora Vediamo Trasformiamo Mettiamo via tutte le cose che non servono Questo 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 Vediamo Vediamo Mettiamo qua un pochino di materie Ah dai Potevo mucchiare questo Ma che cavolo Sono un pochino Fuori Ma direi Di così quasi cominciare a trasferirci Andiamo a vedere soltanto com'è Intanto però no niente Intanto prendiamo due di grano E facciamo Fare delle cose Un pochino Sconcine e le mucche Mucche Il Un pochino Un pochino Un pochino Un pochino Somma Non si vede in guardia perchè ho le particelle al minimo Anche Anche Non mi piace perchè Sì Mi piace Vediamo che bello le montagne un secondo ah avete visto che figata se schiaccio il control per lo zoom dell'optifine e poi il testo sinistro anche come per colpire lo uso come se fosse un testo destro ah testo destro è vero certo perché contro il testo sinistro e testo destro oh una cascata di lava andiamo a vedere dietro ancora non c'ho voglia si credo che poi adesso ci lavorerà un pochino abbattiamo qua un piano rumori strani in caso mi ha scusato e farei qui così un'altra cosa che volevo sapere se magari desiderate un po' di traccia musicale sotto quando faccio i video e non solo il silenzio della mia voce e la adorata ventola del mio computer o se preferite così caneta zucchero vedo cosa che mi fa molto felice perché così avveremmo dei libri e ho intenzione di fare un sacco di cose mangiamo tutta la terra gnom 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 come pacman per pacman mangi i palini sono 13 minuti che registriamo ma non so perché continuo a parlare al plurale sto io registrando a voi state guardando video e non è neanche nello stesso momento dovrei fare un live per vederlo nello stesso momento però finiamo la paletta meglio sarebbe stato finirla così ma vabbè però abbiamo spianato bene si sono praticamente sicuro che la faccio qua a casa un pochino più naturale mettiamo riempiamo qua i buchi e niente credo che per anzi credo che per un cavolo so che per questo video è tutto quindi per questo video è tutto un saluto da Prince Peter ciao